Oltre 700 banche coinvolte con Ripple, ciao caro amico investitore come va e bentornato sul mio canale, io sono Andrea Qui sempre con le ultime novità sul mondo delle criptolute e oggi come sempre parleremo di Ripple e XRP Io direi di non perderci in troppe chiacchiere e andiamo a vedere subito delle notizie di grande impatto Di fatto il servizio di custodia istituzionale per le criptolute ha annunciato le sue graduazioni a DZ Bank Per aver lanciato la sua offerta di custodia di asset digitali istituzionali, sostenuta da Metaco Harmonize Questa è una notizia veramente significativa e te ne spiegherò a breve il motivo Però prima esaminiamo cosa dice Metaco in questo comunicato qua Come annunciato a febbraio Metaco Harmonize è stata scelta come piattaforma per realizzare la visione di DZ Bank in meno di 9 mesi DZ Bank ha fatto un annuncio rivoluzionario, il lancio del suo servizio di custodia di asset digitali commerciali è avvenuto il 2 novembre Attualmente DZ Bank può regolare e detenere criptotitoli in conformità con la legge tedesca su titoli elettronici Uno dei primi casi d'uso è stato il trasferimento di un'obbligazione tokenizzata di Siemens sulla propria piattaforma di custodia Ora per estendere i suoi servizi di custodia a criptolute come il bitcoin DZ Bank ha richiesto licenza per criptolute presso l'autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca Già a giugno di quest'anno E perché è così importante? Le banche stanno già facendo il loro ingresso nel mondo delle criptolute Collorando con Metaco, un'azienda, pensate, acquisita da Ripple È un passo di grande rilievo, ma prima di approfondire è necessario chiarire alcuni aspetti Tramite il loro blog, ora ovviamente non ripercorriamo tutti i dettagli Ma concentriamosi su alcuni punti veramente fondamentali Mentre osserviamo l'operità di una banca di primo livello in meno di nove mesi Cominciamo a notare alcune cose rilevanti Per esempio, DZ Bank gestisce circa 300 miliardi di asset in custodia È una cifra veramente notevole Posizionandoci come il terzo più grande depositario in Germania È il maggiore tra i depositari tedeschi E, dopo nove mesi di meticolosa pianificazione e implementazione DZ Bank ha fatto l'annuncio rivoluzionario del GoLive Della sua offerta di custodia di asset digitali commerciali per le istituzioni nel novembre del 2023 Ora la banca è anche attrezzata per gestire strumenti digitali Sia per se stessa che per i suoi clienti istituzionali Conforme alle leggi tedesche sui titoli elettronici Passando ora poi le transazioni del mercato dei capitali in valuta della banca centrale Questo dimostra l'impegno di DZ Bank a promuovere l'evoluzione dell'ecosistema finanziario Che si colloca esattamente in linea con le esigenze delle banche centrali Ricordiamo che le banche centrali richiedono servizi di custodia istituzionali Altamente sicuri e a alto livello E Metaco sembra essere la soluzione ideale per in questo contesto Poi Metaco è orgoglioso di aver avuto un ruolo nel potenziare la piattaforma di custodia Delle risorse digitali di DZ Bank Oltretutto la nostra infrastruttura software dà l'avanguardia al centro di questo percorso di trasformazione Aliandosi perfettamente con la visione di DZ Bank Per un ecosistema di custodia delle risorse digitali sicuro, regolamentato e scalabile E per questo motivo la situazione è particolarmente eccitante ragazzi Ora per coloro che non sono familiari con DZ Bank Parliamo esattamente di un ente che fornisce soluzioni per banche cooperative E clienti aziendali e istituzionali All'interno del sistema delle banche cooperative Infatti il nostro ruolo di istituto centrale nella rete finanziaria è cooperativa Con oltre 700 banche cooperative in Germania Che detengono la maggioranza delle azioni di DZ Bank Che ovviamente funge da holding per l'entità del gruppo DZ Bank Ci troviamo di fronte a una posizione di forza e stabilità eccezionali Pensate ragazzi, 700 banche, una realtà davvero imponente E tenete presente che la partnership con Metaco Si allina perfettamente a questa grandezza Perché, indovinate un po', sono pronti a custodire gli asset digitali Per i loro clienti istituzionali E DZ Bank è un colosso Pensate, con oltre 360 miliardi all'attivo E potete anche qui vedere alcuni nomi veramente grandiosi Che ne fanno parte Ed è veramente importante prestare attenzione a questi giganti Come DZ Bank che si rivolgono a Metaco Il che rappresenta un effetto a catena diretto per Ripple Dato che Metaco è una società acquisita da Ripple E DZ Bank è uno dei più grandi bancari, i più grandi della Germania Ora, parlando di diventare abilitati agli asset digitali attraverso i servizi di custodia Altre banche seguiranno questo esempio La corsa all'adozione istituzionale è in pieno svolgimento Ed è esattamente come pensavamo L'adozione a livello istituzionale è qui L'ho già detto un tempo fa Il FOMO istituzionale per le cripto è destinato solo a intensificarsi E diventare un trend ancora più marcato Alcuni si chiedono ancora Ma quando il prezzo di XRP inizierà a salire alle stelle? Quando il retail comincerà a fare FOMO? Io personalmente il denaro dei retail, il nostro denaro, non mi interessa Il denaro istituzionale è quello che mi interessa di più ragazzi Rispetto a quello dei retail, quello nostro È lì che sono veramente i soldi È lì veramente che parliamo di decine di trilioni di dollari Io non vedo l'ora che il denaro istituzionale inizi a fluire in XRP E in molte altre criptolute di utilità Saranno quei momenti a segnare le grandi mosse che stiamo veramente aspettando Ma anche qui vediamo che non è il primo annuncio che ha fatto Metaco Harmonies Qui notiamo anche la moneta digitale Utilizzata per il regolamento dei titoli Insieme all'investimento dell'Union di ZBank Che è stata coinvolta in una transizione obbligazionaria con l'AIB Regolata all'ingrosso E qui vediamo proprio il coinvolgimento in transizione pilota delle CBDC Fornite dalla Banca di Francia Che dimostrano i piani per la tokenizzazione del denaro Per il regolamento dei titoli All'inizio dello scorso anno DZBank ha partecipato agli esperimenti della Bundesbank Per testare il regolamento delle transazioni DDLT Utilizzando moneta convenzionale della banca centrale Mentre la BCE lavorava su una CBDC Al dettaglio Ovviamente l'euro digitale si parla ragazzi Negli ultimi tre mesi hanno iniziato a parlare poi tranquillamente Con le banche di un euro digitale all'ingrosso Nell'ultima settimana poi la BCE ha confermato Che si tratterebbe di una soluzione temporanea Perché per farlo nel modo giusto Sarebbe necessario avere una moneta sul ledger In grado di regolarlo sul ledger Questo è l'unico modo per sfruttare l'efficienza del DDLT E tutte le grandi organizzazioni stanno parlando con loro Considerare una CBDC all'ingrosso È veramente una grande affermazione obbligatoria Tutto questo ci parla di denaro della banca centrale Tokenizzato Ed è perfettamente in linea con l'idea di servizi di custodia E ricordate Hanno bisogno di questi servizi E tutto sta accadendo al suo posto E vediamo anche qui da ISO 20022 Protocolli atomici Messaggio più conferma più time out in caso di problemi Il protocollo interledger di Ripple è stato incluso Per i pagamenti istantanei più efficienti E vediamo anche qui in basso Proprio a destra C'è DZ Bank E sì ragazzi XRP sarà coinvolto attraverso questo Perché offre essenzialmente liquidità su richiesta E ancora qua da Metaco Vediamo che il Tier 1 È lo standard istituzionale Per la gestione degli assedi digitali Metaco Harmonix è una piattaforma infrastrutturale Un sistema di orchestrazione per la custodia degli assedi digitali Tokenizzazione Staking Gestione di smart contract E anche per il trading Metaco sarà proprio quello che collegherà le istituzioni In questo momento storico ragazzi L'adozione a livello istituzionale Si sta scaldando E sta diventando una tendenza veramente importante La gara è in corso E tutti devono concentrarsi Su ciò che Ripple sta facendo Soprattutto attraverso molte loro acquisizioni Come appunto Metaco Ma vediamo anche qui Retail CBDC Al dettaglio Le famose CBDC al dettaglio per la custodia È veramente importante Ecco perché i servizi di custodia sono un passo cruciale È questo il passo che viene fatto affinché La vera visione di Internet of Value Possa realizzarsi Infatti quando si discutono soluzioni CBDC Inevitabilmente si pone il problema della privacy Mantenere il diritto alla privacy degli individui Non sarà così impegnativo nella pratica Grazie al ruolo che le banche commerciali Svolgeranno nel ecosistema delle CBDC Soprattutto per le CBDC al dettaglio Le banche commerciali molto probabilmente gestiranno i portafogli degli utenti E dato che queste istituzioni Seguono già un design responsabile dell'utente Attraverso i classici processi KVC o AML Saranno ben attrezzate per contribuire a mantenere Elevati questi standard di privacy agli utenti Prevenendo al contempo le attività illecite Una terza parte fidata Che poi mantiene la custodia dei portafogli retail Potrebbe offrire un'ulteriore fiducia agli utenti Promovendo così l'adozione È proprio qui ragazzi che entra in gioco Metaco Come ho già detto Guardando a ciò che Ripple ha fatto Sono completamente concentrati su ogni questione in sospeso Vogliono essere completamente preparati Per lo scenario completo che accadrà Voglio che tutti voi capiate Che mentre vediamo ogni singolo grande banca centrale Nel mondo Muoversi a velocità straordinaria sulle CBDC Il 93% delle banche centrali Sono già in linea con questo Si stanno scaldando Vediamo che la standardizzazione Sta entrando in vigore I fondamentali sono un punto cruciale Vediamo le discussioni Gli articoli Fai PDF Vediamo i collochi con la Bank of the International Sentiment Con il Fondo Monetario Internazionale La Banca Mondiale Le organizzazioni dell'elite Stanno tutti pianificando E preparando E predisponendosi E ora non è il momento di ignorare Questo tipo di movimento ragazzi Quindi guardate tutto quello che gira dietro alle quinte ragazzi E quello che vi ricordo sempre Guardate queste notizie Tutti i collegamenti che vengono fatti Bene ragazzi Come sempre voglio ricordarvi Di seguirmi anche sul mio sito ufficiale Andrealandriani.it Dove troverete tantissime news Tantissime guide Tutorial gratuiti Oltretutto se volete Potete anche fissare una consulenza Per risolversi qualsiasi problema vostro Io sono qui a darvi una mano O se volete Possiamo anche strutturare Una formazione one to one Un percorso formativo A 360 gradi Formato su te stesso A me non mi resta che ricordarvi Che se vi è tornato utile il video Spaccare il tasto dei like Iscrivetevi al canale E attivate la campanella e le notifiche E noi come sempre Ci vediamo al prossimo video Un saluto a tutti Ciao